Dopo l'arresto per furto a Miramara viene rimesso in libertà e colpisce di nuovo e a poca distanza, 19enne recidivo bloccato dai carabinieri. Covid, contagi stabili nel Riminese, in lieve aumento in regione, l'appello di indino della Confcommercio, basta corteino passi in centro, danneggiano le attività. Federalberghi Riccione è presente al bilancio dell'estate 2021, si consolida la ripresa, gli albergatori chiedono parcheggi e riqualificazione. Ufficializzati 49 milioni per la seconda tratta del metromare, serviranno per il collegamento con la fiera, PMR sta lavorando al progetto. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, la cronaca. Poco più di due settimane fa, insieme ad un complice, aveva forzato la porta d'ingresso di un ristorante a Miramara ed era fuggito col fondo cassa e due bottiglie di vino. I carabinieri di Rimini però erano riusciti a rintracciarlo e arrestarlo per furto aggravato. Il giovane, un tunisino di 19 anni, era stato così processato ma poi rimesso in libertà. Questa mattina intorno alle 5 però è finito nuovamente in manette e sempre a Miramare dopo un altro furto, questa volta ai danni dell'Eurobar di Viale Regina Margherita, angolo Viale Faenza. Spaccando la retrata dell'esercizio, il 19enne si è introdotto all'interno, ha preso 50 euro dal fondo cassa. Proprio in quel momento però una pattuglia di militari lo ha notato fuggire dal bar e lo ha inseguito e fermato. Domani il nuovo processo, per direttissima e con due furti in poco più di 15 giorni, potrebbe arrivare in questo caso una pena più severa. A Milano è partita una raccolta firme per chiedere lo stop alle manifestazioni no pass in centro perché danneggiano l'economia. Una decisione condivisa dal presidente della Confcommercio riminese Gianni Indino che ne ha parlato questa mattina a tempo reale. Basta alle manifestazioni e ai cortei no green pass nei centri storici, in particolare al sabato. La petizione lanciata su change.org dalla Confcommercio Milano, dove si stima una perdita di oltre 10 milioni di euro in tre sabati per esercizi e bar che insistono nelle zone interessate dalle manifestazioni, trova una sponda forte anche nel riminese, sempre da parte della locale associazione. Qualcuno le chiama, come dire, diritto di protestare, la libertà alla contestare. È vero ma proprio in questi giorni, come avete visto, la gente che invece si è vaccinata o vuol tornare alla normalità sta facendo capire che siamo di più noi. Questo tipo di proteste, per esempio, nelle città, in tutte le città italiane che continuano in perterrite, stanno producendo dei gravi danni all'economia, al commercio. In molte città italiane, oramai, nei momenti in cui, al sabato, il giorno dedicato allo shopping, si andava a perrecompere, in quelle aree, e quasi sempre le aree centrali delle città, non ci si va più perché si ha paura. La libertà di contestare, di protestare, è un diritto sacrosanto e per cui deve essere mantenuto, magari però cominciamo a scegliere delle aree dove non mettono in difficoltà, in discussione, delle attività che stanno lentamente cercando di tornare a vivere. Arrestiamo in tema, abbiamo uno sguardo all'andamento dei contagi che sono stabili oggi nel Riminese, non altrettanto invece in Regione, dove se ne contano 100 in più di ieri. Crescono anche le terapie intensive, non i ricoveri in reparto, non si arrestano purtroppo in Regione anche i decessi. Vediamo. La provincia di Rimini non registra impennate nel contagio. I nuovi positivi sono 26, ieri erano 30, di cui 18 con sintomi. In Regione invece l'aumento dei casi c'è, sono 328 rispetto ai 222 del giorno precedente, a fronte di circa 2.000 tamponi processati in meno, 31.175 ieri, 29.677 oggi, per un tasso di positività che sale dallo 0,7 all'1,1%. La provincia con più contagio è Bologna con 68, seguita da Ravenna con 46. L'età media delle persone che hanno contratto il virus è vicina ai 43 anni. Gli ospedali Emiliano e Romagnoli reggono bene, anche se i pazienti ricoverati in intensiva sono 8 in più, 38 in totale, mentre se ne contano 18 in meno negli altri reparti covid, complessivamente sono 297. A Rimini sono ancora due le persone in terapia intensiva. Rallentano le guarigioni, i 253 nelle ultime 24 ore, e crescono i casi attivi, 69 in più, 7.566 in totale, il 95,5% dei quali in isolamento domiciliare. Non si fermano purtroppo i decessi, anche oggi ne sono stati comunicati sei. Tra questi c'è una donna di 59 anni del modenese. Torniamo anche sulla notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale di ieri, ancora una mattinata di traffico intenso a Rimini a causa del cantiere di ERA per il PSBO lungo largo Unità d'Italia, ma la situazione rispetto alla giornata di ieri è comunque migliorata. Merito della riapertura della circonvalazione meridionale, entrambi i sensi di marcia. Code nelle ore di punta ne sono rimaste, ma è in particolare lungo la via Flaminia e su via Tripoli. Il traffico per ora è risultato complessivamente più scorrevole. Il cantiere ERA, lo ricordiamo, resterà comunque aperto fino alla metà della prossima settimana. L'unico tratto intradetto al momento della circolazione è quello che dalla rotatoria tra via Bramante e la circonvalazione conduce verso l'arco d'Augusto. Come anticipazione dell'Assemblea che si è tenuta questo pomeriggio con la partecipazione anche dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, Federalberghi di Riccione ha presentato i risultati del questionario come è andata l'estate 2021, sottoposto a 116 albergatori riccionesi, la metà dei quali 3 stelle, una stagione di ripresa rispetto al 2020, anno nero del Covid e che permette di guardare con moderato ottimismo anche al futuro. Tra gennaio e settembre i pernottamenti a Riccione sono stati 2.100.000, per i turisti italiani meno 18% sul 2019 e più 23% sul 2020, per quelli stranieri circa 240.000, meno 48% sul 2019 e più 60% sul 2020, nel complesso meno 22,6% sul 2019 e più 26,6% sul 2020. performance negative fino a giugno con la perdita del turismo sportivo in primavera, poi la ripresa, sostenuta soprattutto dal mercato italiano, in primis Emilia Romagna e Lombardia, ma ad esempio anche Bolzano con un più 12% grazie alla nuova fermata delle frecce. Cresce il numero dei giovani tra i 13 e i 27 anni con la precisazione che quelli che sono venuti a creare caos, spesso neanche pernottavano. In calo gli anziani, con la difficoltà nella ripresa del turismo sociale, cresce la permanenza media, a conti fatti un bilancio con più luci che ombre. È un'estate che ancora non vede concluso il periodo difficile del Covid, però ha sicuramente dato un segnale positivo di capacità e di reattività da parte del mercato, soprattutto quello italiano, rispetto all'attrattività di questa destinazione che è Riccione e che sicuramente oggi riesce a interessare tanti turisti. Le maggiori criticità riscontrate sono ordine pubblico e ricerca di personale, meno la gestione dei protocolli Covid, per quanto la spesa media di adeguamento sia di 6.500 euro. Gli albergatori, sempre più attenti alla sostenibilità, chiedono parcheggi anche periferici, purché ben collegati, e sono disposti a investire non in SPA o benessere, che funzionano se di dimensioni ampie, ma nella riqualificazione delle camere, che restano il capitolo principale dell'offerta, e chiedono al pubblico di fare la sua parte, a partire dalla riqualificazione del porto e degli arredi di Viale Ceccarini. La possibilità di utilizzare eventuali bonus e eventuali opportunità che i nuovi incentivi finanziari pubblici mettono a disposizione sono un ulteriore incentivo a intervenire. Gli albergatori che sono disposti ad investire e a fare la loro parte su un territorio in cui ovviamente il risultato finale dipende dalla collaborazione tra pubblico e privato. Gli albergatori raccontano di essere pronti a farlo, c'è una grande disponibilità e un grande interesse a accogliere anche gli nuovi strumenti offerti dalla normativa attuale. Ovviamente poi il pubblico deve metterci il suo, perché credo che creare delle cattedrale nel deserto non serva a nessuno, dove invece serva a fare dei progetti integrati di sviluppo e di miglioramento del territorio, sia dell'offerta turistica, strettamente ricettiva, ma non solo di quella ricettiva. Tra i progetti ammessi a finanziamento in attuazione alla PNRR c'è anche il secondo stralcio del metromare, quello che collegherà la stazione di Rimini al quartiere fieristico. Si tratta di un finanziamento da 49 milioni di Euro. La conferenza Stato-Regioni e la conferenza Unificata hanno approvato infatti oggi lo schema di riparto dei 3,6 miliardi che il governo ha destinato al trasporto rapido di massa. La tratta verso la fiera di oltre 4 chilometri sarà percorsa in 16 minuti e si svilupperà in sede proprio lungo la via Emilia, la via 23 Settembre, il viale Matteotti fino a piazzale Battisti. Il prolungamento verso la fiera sarà strategico per potenziare l'accessibilità ad uno dei principali attrattori del nostro territorio, commenta l'assessore Roberta Frisoni, spiegando che PMR, patrimonio mobilità Rimini, in qualità di soggetto attuatore, sta già lavorando alla progettazione definitiva dell'opera. E' uscito da qualche settimana, edito da Il Mulino, l'ultimo libro dello storico riminese Andrea Sant'Angelo, si intitola Andare per la linea gotica e racconta i 5 itinerari proprio della linea gotica. Questa mattina ne ha parlato a tempo reale, lanciando anche una proposta al comune di Rimini per aiutare a tramandare una storia troppo spesso e dimenticata. Vediamo. La cosa che mi dispiace molto è il fatto che è stata una delle battaglie più cruente, più importanti che dal punto di vista numerico dei mezzi, degli uomini impiegati ed è una delle più dimenticate di tutta la seconda guerra mondiale. Ma anche la cinematografia. Che film sono stati fatti sulla linea gotica? Eppure è un fatto che ha segnato la vita di noi tutti, anche molto tempo dopo la seconda guerra mondiale. Pensi a come tutti i nostri anziani hanno perso amici che andavano a raccogliere munizioni e bombe inesplose dopo la guerra. La grande mancanza di Rimini è che Rimini è stata la città più distrutta d'Italia per il passaggio del fronte della linea gotica. Cioè l'89% dell'elevato di Rimini è stato raso al suolo. Qualsiasi altra città del mondo con un passaggio del genere avrebbe sicuramente un museo della distruzione di Rimini o qualcosa che lo ricordi. Museo fotografico. Fotografico, dei memori, dei raccogli, come dicevi tu, anche delle testimonianze orali, possiamo farlo anche multimediale. Comunque qualcosa che lo ricordi e che distingua Rimini, anche perché Rimini è stata una medaglia d'oro appunto per la sofferenza. Esatto. Questa cosa a Rimini non c'è. È una cosa assolutamente, una mancanza gravissima. Poi secondo me è anche semplicemente una gita domenicale in giro sui campi di battaglia del Riminese, che sono ancora tutti leggibili. Dal fossone di Coriano, alla torretta interrata di Pantera alle Celle, al campo di battaglia di Montececo, che ancora sono tutti leggibili. E' una cosa impressionante, anche il cimitero di guerra inglese di Coriano, quello di Gradara, quello di Gurkhal, quello di Superstale San Marino. Ci sono luoghi bellissimi e suggestivi da andare a vedere in una giornata, lo visiti, magari fermandoti appunto a mangiare in qualche buona trattoria. c'è solo l'imbarazzo della scelta. Il Lions Club di Rimini ha donato due cargo bike alla Caritas riminese che serviranno per il Giro Nonni. La cerimonia di consegna nel pomeriggio di oggi, vediamo. Noi abbiamo cinque giri che ogni giorno vanno a portare in mangiare una cinquantina di persone anziane, persone fragili. Alcuni di questi sono zona marina centro, ma anche in centro città. Ci è venuta l'idea di poter utilizzare delle biciclette per inquinare meno, ma anche per far vedere una presenza più vicina, più serena, vedere delle persone che possono essere anche fermate, per dare col senso che una bicicletta dà anche un po' di speranza, di gioia. Quando l'abbiamo proposta al Lions, la Presidente era l'Alessia Valducci e quando glielo ho raccontato, non ho fatto tempo a finire il racconto che ci ha già detto di sì, e da qui è partita questa avventura che da domani vedrà due dei nostri giri. Essere fatti in bicicletta dai nostri volontari. Da domani si parte in giro per Rimini con le biciclette, con Rimini Host, con l'Ions. Ci siamo, uniamo la solidarietà per le persone che non possono sostentarsi, quindi non possono mangiare insieme agli altri, quindi hanno bisogno di giovani che portano il cibo a casa. Alla sostenibilità, quindi senza impatto zero, senza macchine, ma appunto questi giovani porteranno il cibo a questi nonni. Una collaborazione nata ormai tanti anni fa con le prime donazioni all'Empore Solidale. Ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto anche, abbiamo devoluto anche i proventi del nostro concerto di Natale per un totale di 7 mila euro all'Empore Solidale. E poi è arrivata la possibilità, la richiesta di implementare nuovamente questa donazione con le due biciclette per il Giro Nonni. Allora l'idea chiaramente ci è piaciuta tantissimo e fa parte dell'attività del club dello scorso anno sotto la presidenza di Alessia Valducci, deliberata quindi dal direttivo dello scorso anno. Quest'anno diciamo raccogliamo i frutti di ciò che era stato seminato l'anno scorso, quindi in totale tra la donazione all'Empore Solidale e i 4 mila euro che abbiamo donato per l'acquisto delle biciclette siamo arrivati ad un totale di 11 mila euro devoluti alla Caritas tra Empore Solidale e Giro Nonni. Una delle caratteristiche dell'Ins Club Riminiost è quello di rispondere con molta velocità alle sollecitazioni e alle richieste, dipende moltissimo dal progetto che ci viene proposto. E noi siamo arrivati in conclusione, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale come sempre il nostro sito newsrimini.it, questo telegiornale come tutte le produzioni del gruppo Icaro lo potete invece trovare e riguardare sulla piattaforma Icaro Play. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.